Un'invasione anomala di chironomidi e alghe sta per infestare Venezia. Si prospetta così un'estate difficile per tutti. Questi setti proliferano in zone umide e in presenza di alghe. Infatti si trovano già alcuni sciami ai Pili, in fondo a Ponte della Libertà, e in zone come Campalto e San Giuliano, posti in cui vi è uno scarso ricambio dell'acqua lagunare, che crea quindi un ottimo habitat anche per la crescita delle alghe. L'anno scorso questo fenomeno, apparso in piena estate, oltre a creare un grande fastidio ai residenti, aveva provocato anche morie di pesci. Ma quest'anno questi moscerini fastidiosissimi sono già comparsi e siamo solo ad aprile. Dovendo trovare un'imminente soluzione, l'assessore all'ambiente Gianfranco Bettin ha lanciato un allarme, chiedendo al magistrato delle acque di intervenire. La proposta è quella di rimuovere i depositi sabbiosi accumulatisi sotto il Ponte della Libertà, il quali impediscono il ricambio dell'acqua. Così si andrebbe a migliorare la situazione, ma ovviamente non può bastare. Il Comune, infatti, ha già varato un piano con Veritas, che prevede anche l'uso di teli bianchi volti a favorire la concentrazione dei moscerini, liberando così altre zone. Inoltre cercheranno di incrementare la presenza di alcune varietà di pesci, ghiotti di chironomidi.